Questo è il primo spartifuoco del Comune di Eboli, la prima spiaggia dove inizia il Comune di Eboli. Siamo al fianco del collettore di scarico del Consorzio Bonifica d'Estrasele e stiamo praticamente calpestando quello che il mare ha portato, i materiali di risulto portati dal mare. Il mare che dista circa 70-80 metri da noi, come potete vedere la battiglia sta lì e il collettore di scarico sta lì. Quindi questi materiali ormai sono la consuetudine da qualche anno, perché prima il mare quando aveva le sue fasi agitate, quando c'era una mareggiata, ovviamente i materiali li lasciava a pochi metri dalla battiglia. Adesso, come potete vedere, a causa di questa forte attività erosiva, i materiali vengono portati a 80-90 metri. Quindi questo vi fa capire la potenziale gravità della situazione, dell'attività erosiva che stiamo subendo. Il maltempo non sta compromettendo solo le colture della Piana del Sele, ma da qualche anno sta distruggendo un'altra risorsa economica del territorio, le spiagge, e quindi sta mettendo in ginocchio l'imprenditoria balneare. Massimo Zerenga, membro del Consorzio Balneare Sele-Mare, è titolare di un lido ad Eboli e con gli altri imprenditori del settore danni combatti affinché si mettano in campo azioni concrete per tutelare le spiagge. Lei ha perso tanto nel corso degli anni? Abbiamo perso un grande patrimonio, ma soprattutto l'amarezza di constatare uno stato di cose che va sempre peggio, quindi una perdita, una grossa perdita. Il grande progetto per contrastare l'erosione costiera presentato dalla Regione Campania e dalla provincia di Salerno per gli imprenditori balneari è una valida alternativa per evitare il disastro totale per gli imprenditori. Però il progetto che interesserà 40 chilometri di fascia costiera del Golfo di Salerno e per il quale la Commissione Europea ha stanziato 52 milioni di euro, deve essere realizzato al più presto. E come potete vedere, oltre che la spiaggia, stiamo perdendo anche la pineta qui ad Eboli, perché oramai il mare ha invaso anche il verde della pineta, ci sono degli alberi sradicati, ci sono dei pini abbattuti, quindi si perde spiaggia, Zerenga, ma si perde anche il verde che abbiamo qui. Si perde spiaggia, si perde pineta, è un'aggressione al nostro patrimonio ambientale, come dicevo, che ormai è diventata irreversibile e grave. Abbiamo alle spalle quello che prima era pineta, adesso lo vedete stesso voi, ma era più avanti la pineta. Noi ormai stiamo constatando l'aggravarsi di una situazione che avevamo annunciato e che continua ad aggravarsi. Bisogna fare presto. Fate presto, fate presto e evitiamo le polemiche, evitiamo questi dialismi che fino ad ora hanno portato solo danni, alla fine dei conti le polemiche restano, ma insieme alle polemiche poi c'è il danno.